Il GPL è un prezioso alleato in ottica di mobilità sostenibile e Dacia offre da tempo un'ampia gamma di soluzioni con questa motorizzazione. Ciao sono Mauro e oggi vi voglio presentare la nuova Dacia Duster GPL dotata del nuovo motore 1000 turbo benzina 100 cavalli BFuel. Cosa cambia dalla versione precedente? I consumi sono ridotti del 20 per cento e il nuovo motore garantisce una performance più potente grazie all'utilizzo del turbo che dà una spinta al più al veicolo. Il punto di forza di questa nuova motorizzazione è il rapporto convenienza autonomia. Il serbatoio da 33 litri di GPL permette di percorrere circa 400 chilometri con solo 20 euro a cui si sommano ulteriori 50 litri del serbatoio di benzina per un totale di circa 1000 chilometri di autonomia. Nessuna paura di rimanere a secco di gas, c'è un indicatore a led luminosi che cambia colore da verde a rosso a seconda della sua disponibilità. Dacia Duster è il SUV straniero più venduto ai privati e può essere tuo a soli 500 euro in più rispetto al modello con una sola alimentazione.